Un luogo dove studiare e fare ricerca, la Biblioteca Scarabelli e la storica Biblioteca Nissena, fondata nel 1862 ed ospitata nei locali dell'ex Collegio dei Gesuiti. Sono numerosi i lasciti di collezioni di volumi, da prima dell'Unità d'Italia ad oggi, tra le preziosità un salterio notturno superprotetto dall'inestimabile valore e delle cinquecentine, ovvero dei testi del XVI secolo. Oggi continua ad essere punto di riferimento per la cittadinanza anche post-digitalizzazione e se da qualche anno non sono più stati effettuati gli acquisti per integrare la presenza di ulteriori testi, c'è la soluzione dell'interscambio bibliotecario grazie alla piattaforma Sabine, come spiega Anna Armone, esecutore amministrativo. Il sito interbibliotecario praticamente consente all'utente di usufruire di un testo che noi non possediamo. Fa la richiesta uno di noi e noi lo mandiamo a ritirare dalle altre biblioteche, con un costo di servizio che può essere gratuito o a pagamento. Dipende, diciamo, l'importanza del testo. Di solito si rivolgono a noi tutte le studentesse che devono fare tesi di laurea, non trovano materiale. Una piattaforma utile e pratica. Tuttavia sono ben accette le donazioni di testi da parte di privati o seguendo il percorso istituzionale.